allora partenza attivazione pota parco dell'aveto casco mai per terra che porta male setup ft8 17 si ho preso l'ft8 17 e ovviamente antenna di polo percorso scelto andrò su per il passo del tomarlo tanto è presto non dovrebbero esserci troppi motociclisti che mi rompo i coglioni un'oretta ma anche meno tanto il bello del pot è che basta qualsiasi piazzola all'interno del parco per fare applicazione allora buongiorno da italia azul 4 victor quebec sierra vinco quasi sempre come al solito il quadri che mi prega attivazione e pota parco dell'aveto di fronte o il monte tomarlo qui alla mia destra la valceno e ovviamente di là la val d'aveto il bello delle attivazioni pota è che praticamente ci arrivi col col cuore ti scegli il posto più comodo all'ombra impianti stazione vai a l'aveto di fronte o a un parco di fronte o a un parco di fronte anche è iniziato a Allora, ok, è più rilassante l'attivazione porta, più tranquilla, soprattutto non hai la fissa, la preoccupazione di dover fare delle gran camminate e magari il tempo come adesso cambia, non è un cambiamento repentino, a breve si andrà a piovere. Allora, è più rilassante, più tranquilla, poi sono uno che non gli piace fare le attivazioni molto formali, rigide, 5-9, referenza, tutto tranquillo, tutto impostato, mi fa anche piacere sempre risentire colleghi o amici e fare anche due chiacchiere durante l'attivazione. Per me non è un problema se uno si vuole soffermare a fare due chiacchiere, assolutamente. Attività in 40 metri, ho provato a fare un rapido passaggio in 20 metri ma la banda completamente vuota, parecchie scariche, ma queste si saranno sentite anche nel filmato, poi ovviamente come al solito i QSO li metto dopo. Avrei voluto fare un giro con il drone, ma sfortunatamente con l'aggiornamento del software della Mavic, visto che qui siamo in zona parco, il drone non si alza più di 10 metri. Serve un'attualizzazione ufficiale dell'ente gestore del parco per poterlo alzare in volo. Vabbè, c'è la gente che passa in macchina che dice questo è pazzo, moderatamente. Mi trovo proprio sulla zona di Crinale, fra il passo del Tomarlo e il passo del Chiodo, c'è una strada provinciale che è veramente uno spettacolo. E quindi il 73. Da Italia a Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Binco quasi sempre e come al solito è il quasi che mi frega. Allora, oggi è il 3-8, 0-3, allora vediamo un po' dove sono, mi si chiama la referenza? Italia Tango 0-7-0-4, 0-7-0-4, 0-7-0-4. Parco dell'Avertro. Allora, vediamo un po' te chi sei. Sicupota, 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 Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Sicupota. Allora, io ho copiato Italia, uniform 8, mi manca il finale del call. Allora, India, uniform 8, Quebec, Tango Mike, grazie al collega, 5-9 per il log, passo referenza Italia, Tango 0-7-0-4, Italia, Tango 0-7-0-4, attivazione Pota. Buongiorno, buongiorno, Italia Zulu 5, Giulietta, Lima, Foxtrot, signor Claudio. Guardi, ho fatto notata per una riparazione per poter far pota stamattina, perché veramente mi ero stufato. Quindi, Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, per Italia Zulu 5, Giulietta, Lima, Foxtrot. Francia 5, Papa, Ianchi, Italia. Roger, Francia 5, Papa, Ianchi, Italia, 5-9, QSL. Roger, Italia, Chilo 4, Italia, Delta, Francia, 5-9, reali, 5-9 più, QSL. 5-9, anche per te, grazie, buon caldo, buon caldo. Italia, X-31, Giulietta, che è il coppino. Italia, X-Ray, 1, Giulietta, Quebec, Eco, 5-9, reali, QSL. QSL, QSL, Italia, X-Ray, 1, Giulietta, 5-5, sono 4-8, 4-8, in questo momento ho un po' di questo lì, un po' di rumore, ma ti ascolto, comunque viene ancora a te, over. Roger, ti saluto, Italia, X-Ray, 1, avanti, Italia, Chilo 5. Sì, buongiorno, grazie, Italia, Chilo 5, Alfa, Eco, Quebec. Roger, ti ringrazio per la segnalazione, avanti la stazione Italia 1. Italia, Chilo 1, Giulietta, November, Papa, che è sempre la collega. Roger, Italia, Chilo 1, Giulietta, November, Papa, 5-9 più, QSL. Sì, buongiorno, Zulu 0, Alfa, Maria Dora. Roger, Italia, Zulu 0, Alfa, Radio Lima, avanti. Sì, stanno, con un po' di questo, 5-9, ti confermi la referenza? Ti confermo la referenza, Italia 0704, Italia 0704, attivazione Pota, Parco dell'Aveto, QSL. Italia, Norvegia 3, November, Giulietta, bravo. Roger, Italia, Norvegia 3, November, Giulietta, bravo, 5-9, QSL. Italia, Uniform 5, Foxtrot, Hotel, Delta. Allora, Italia, Uniform 5, Foxtrot, Hotel, Delta, QSL. QSL, Lusano da Pescina. Italia, Chilo 3, Eco, Romeo e Charlie. Oh, Roger, Italia, Chilo 6, Eco, Romeo e Charlie, 5-9 più, più, abbondantissimo. Ti passo la referenza, Italia Tango 0704, QSL. 33, buona attivazione. India, Uniform 1, Lima, Eco, bravo. Allora, India, Uniform 1, Eco, scusami, mi sono impappinato, ripetimi un po'. QSL, scusami ancora, Italia, Uniform 1, Lima, Eco, bravo, 5-9 più, QSL. Park to park, park to park. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, reference park. Italy, Tango 0704, QSL. Pige, Pige, col s'ha il legato, Pige. Pige, Pige, Pige. India, Quebec, 5, Mike, Sierra. Oh, perfetto, India, Quebec, 5, Mike, Sierra. Penso che sia il signor Claudio, QSL. QSL, sì, ma il segnale è molto salito, eh. Molto, molto salito, 5-9 più. Roger, guarda, c'è stato un attimo che assolutamente ero scomparso. non riuscivo a contattare un collega della zona 3, ci sentivamo malissimo. Sempre buon fine settimana, lei, signor Claudio. OK. Italia, Zulu 1, Juliet, Kilo, hotel. Roger, Italia, Zulu 1, Juliet, Kilo, hotel. Ti devo offrire il gotto interrogativo? Sì, mi sta rifiutando, c'è il prossimo 0.1.0. Roger, OK. Allora, ti passo la referenza. Italia Tango 0704, Parco dell'Aveto, con rapporto 5-9 più. QSL. Roger, grazie, l'Alessandro. Ti confermo 5-9 per il log. Reali sono 5-6. Arrivi bene, comunque. Non ci sono problemi. Grazie per l'attivazione, grazie per la referenza. Buona giornata, buon weekend e buona presto. Ciao, Alessandro. Ciao, 73. Isa, Italia, uniforme 5, Mike Oscar Tango. Roger, Italia, uniforme 5, Mike Oscar Tango. 5-9, QSL. Grazie, grazie, Alessandro. 5-7, 5-7. Vai così, che c'è sempre il migliore. Ti ringrazio. Buon fine settimana, 73. Ciao, Alessandro, grazie a te. Buona attività. India, uniforme 2, Sierra November Papa. India, uniforme 2, Sierra November Papa. 5-9, QSL. Questo è il buon proseguimento. Sui crampi, porca puttana. Italia, Zelanda 5, Messico, Vittoria, Santiago. Italia, Zelanda 5, Messico, Vittoria, Santiago. 5-9, più, più, QSL. Questelle, Alessandro, 5-9, 5-9 qui a Firenze. Grazie per l'attivazione posa e buon weekend. Ciao. Ciao, 73, altrettanto. Ciao, buona domenica. Savona 5-8, M-Russa. Savona 5-8, Milano, Udine. Roger, Roger, grazie per l'italiano. Sierra 5-8, Mike, uniforme. Sierra 5-8, Mike, uniforme. Referenza Pota. Italia, Tango, 0-7, 0-4. Il tuo rapporto 5-9, più, 20. QSL? QSL, tante grazie. Buongiorno, grazie per il risposto. 5-7, Reale, 5-7 e rapporto. Saluti, buon weekend, 2-3 segura. Ciao, ciao. Italia 3, Lima, Tango, Tango. Allora, Italia 3, Lima, Tango, Tango. QSL? 5-6, ciao, Alessandro, ben sentito. 5-9, per il logo, Reale, 5-6, 5-7, ma tante scariche, a te cambio. Roger, ti confermo anche da parte mia, tante scariche. Il tuo rapporto 5-9, più, più, 5-9, più, più. K2, Giulia, Tango, Sierra. Roger, Italia, Kilo 2, Giulia, Tango, Sierra. 5-9, QSL? Roger, 5-9, ciao. Ciao, 73, buon fine settimana, grazie. Allora, Italia, Kilo 2, ECO, Yenchi, Sierra. QSL? Sì, QSL, salve bene qua, ti passo 5-9, 5-7, il segnale è variabile. Odo, Tango, è la potenza minima di questo apparato che mi dà 10 Watt. E K2, ECO, Yenchi, Sierra, K. Roger, Italia, Kilo 2, ECO, Yenchi, Sierra. Ti passo 5-9, reali. La mia potenza è 5 Watt. Stazione QRP con l'FT817 tirato a chiodo. Quindi, proprio 5 Watt. Grazie, buon fine settimana, 73. Hotel Bravo 9, Foxtrot Bravo Golf. Ok, Hotel Bravo 9, Foxtrot Bravo Golf. 5-9, QSL? Sì, Alessandro, buongiorno per il sentito dopo due anni. 5-9, buon divertimento. 5-9, 73. Buon fine settimana, grazie. Ciao. Ok, se non c'è più nessuno, io faccio QRT. Ciao, ciao. Mi senti ancora, è un QSB, molto QSB. Però se mi ascolti ancora, Umberto, Quattro, Me, Soppa 2, Coglianchi, Soppa 2, Coglianchi, Soppa 2, Saluta. E buona passeggiata lì in montagna. Ciao, ciao. Ciao, Umberto, grazie, grazie. Buon fine settimana, grazie ancora. No, non provateci neanche col CV-Doppio. No, sarebbe una gran figata impararlo. C'è un apparato in CV-Doppio per i 40 metri che è più piccolo di un pacchetto di sigarette e potenza un watt, un watt e mezzo. Sarebbe una gran figata, ma non lo so, sono una capra. Lasciamo in due. Lo so che non ti consola, ma siamo in due. Eh, vabbè, almeno ci facciamo compagnia, Claudio. Niente, guarda, Claudio, io adesso vado al rifugio del Monte Penna. Ce ne ho per mezz'ora, 40 minuti di strada. Bella tutte le curve. E ti aspetto, eh, se vuoi. Ti faccio preparare un goto di bianco fresco. QSL? Sì, buona, mi ci vuole una preparazione psicologica di almeno 3-4 giorni prima di venire. Quindi, te stai sicuri. Ti avverso quando mi metto in viaggio. Ciao, Alessandro, buona giornata. Ciao, 73. QRT, signori, Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, portateli QRP in QRT. 73. Ok, grazie. Ciao, grazie. Sì, grazie, grazie, grazie.